Sulla website di Stop&Go abbiamo scoperto dell'ingresso di un nuovo team Venezuela International Motorsport diretto da Gianni Giorgio Siamo proprio con Gianni Giorgio qui nel paddock di La Conca a cui chiediamo quindi come sta andando questa prima uscita del team Venezuela International Motorsport con loro Sebastiano Fernandez Ciao a tutti, siamo qua con troppo caldo La Conca, la USK Euroserie Siamo cominciando con questo team che prima era negli Stati Uniti adesso facciamo tutte le gare qua in Italia quindi il piloto è stato bastante bene, concentrato, a posto il Guarnob ha fatto bene, la pole ha qualche problema avuto ma ieri nel primo match ha riuscito a trovarsi e è arrivato quinto dopo di uscire il diciottesimo oggi sabato ha fatto un'altra bella gara sempre arrivando davanti è arrivato terzo intelligentemente perché ancora non è la finale quindi il piloto sta facendo la differenza adesso quindi l'obiettivo per il weekend di Sebastiano Fernandez qual è? penso che lui è molto concentrato e vuole fare la finale e uscire in partenza in prima fila e dopo la finale ha detto che se la gioca con Lorandi, Garofano, sono andato forte vediamo mentre invece l'obiettivo del Venezuela International Motorsport è quello di stabilire una base anche qui in Italia o in Europa per le gare internazionali e magari cominciando appunto da Fernandez per poi allargare il giro o cos'altro c'è dietro? adesso soltanto con Fernandez si concentra in lavorare soltanto con il ragazzino soltanto lui per diventarlo più professionista comincia a dare i primi passi quindi proseguirà il discorso ovviamente anche in KF3, KF2 e via dicendo? si, si, come deve fare, quest'anno finisce la 60 per lui e dopo comincia la KF3 vediamo che quest'anno lo montiamo sul KF3 per fare i test comunque ha fatto anche i test con l'ISICAR che il 100 va abbastante bene per adesso in bocca al lupo e ci rivedremo comunque in questo weekend direttamente anche con Fernandez per vedere poi com'è andata grazie